Locri, 20, 21 e 22 luglio, con Tradizionarte, ritorna alla città del gelato. Tre giorni di divertimento e tonnellate di ottimo gelato artigianale, con tanti nuovi gusti, trenino turistico, esposizioni artistiche, clown e tanto altro ancora. Una festa lunga tre giorni, con le prestigiose gelaterie locresi. Da quest'anno, anche la prima lotteria Tradizionarte. Partecipa pure tu, vinci i preziosi premi offerti dalle gioiellerie di Locri. Locri, città del gelato, dal 20 al 22 luglio. Organizzazione a cura di Ascoa Locri.